Tu devi mettere il suo OBS, il robot quello dell'internet e ci metti la canza di carta e poi ci metti il slasemate e ce lo metti in modalità scala. Quindi si, ah, ma gli altri non vedono. E' una tecca. Non vedete. E' un esempio. 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 Vabbè, io resto su Discord anni se stimo. Hello? Hello? Mi fate comunque compagnia con l'audio, quindi. Salve a tutti, io essere modern con pochi permetti. Aspetta. No, su Twitch ce li hai tutti quelli che ti servono. Su Twitch si. Sì, sì. Io in realtà non so come canzionare i messaggi. Mi raccomando. Hai tu, non so come mutare la gente. Invito un po' di gente nella lobby intanto. Vabbè, intanto che Dominic è crashato, vado su Twitch a fare il moderatore. E lo poi anche. No, non è vero, non mi interessa. Perchè sennò potevi anche condividere lo scremmo qua. Così, così, così. Eh, non so. Troppo tardi la domenica o mai sono i filtri. devo fare moderato moderato online basta with the bot io sono il moderatore di fiducia tu rubi le carce di credito il nostro corso Grazie a tutti. 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 Bellissimo lo spam di emoticon nella chat di Twitch. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. è entrato. Grazie a tutti. che... che... Dai, dai... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 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 ...... ... ... ... ... Ok Ho preso solo clausciare Ah io ho fatto un B, ho preso, non lo so, ho fatto un B No mi E' entrato un 5G digit come domino, male. C'est un peu. Io ho l'opera scaricato Grazie a tutti no 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 to it's job to to Grazie a tutti. 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 Ho preso... penso che... ora... ti sento... mettiamo... bene... non sono uscito... Mettiamo il tag Adore Ma dai È una mappa che è continuamente una stella Jump a stella Bene Che diventano sempre più larghe Ah è fatile È strana Io sono con relax quindi riesco a farlo Sì ma mi è seccato Io ce l'avevo Quindi l'ho già fatta sicuramente No come ti fa sta roba Oddio La testa del portatile L'ho sentito Ma pig che c'ha A 900 combo In questa cosa È in autopilot Sta soltanto spammando ZX Staticamente Io posso aspettare volendo No Non bisogna aspettare Poi No Cioè io ho tipo 5 server di Discord E' soltanto di osu Assurdo Anch'io ma Oltre a cose di osu non ho Vabbè il mio è server normale Non è di osu Cioè è di tutto Aia La mia mano Comunque sia un portatile L'ho sentito Dovrebbero fare i link condivisibili delle lobby di osu Per poterle spammare nelle chat di Discord Ok Direi che tocca a me Questa non fa stile Oh bella questa Oddio Questa è bella Mi è uscito a random e questa è bella Mi è uscito a random e questa è bella Ok Skills E' uscito a random e questa è bella E' uscito a random e questa è bella E' uscito a random e questa è bella Che cosa è bella E' uscito a random e questa è bella E' uscito a random e questa è bella Che fa O che cosa è on équipe E' uscito a random e questa è bella E' uscito agence E' uscito a random o편 E' uscito a tags Sono morto che panna Ho preso il cibo Cosa? Non ho fatto manco il 90% Io sono morto Sì, sì Bellissimo, dai Undertale E vai Undertale Undertale Solo io non lo conosco No, come fai? Ma cos'è un gioco? Oh, ah, c'è un gioco Ah, il DFT è noi Do 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 Starta la partita adesso Ok Come on Let's see what good your determination is against this Sex From Siamo terior Siamo Mi Ma Secret Is Tut Grazie a tutti. 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 All'inizio tutto concentrato, perfetto, poi alla fine... No, 5 stelle, no? No, che schifo va... Vabbè, ma io vado in relax. Spiace, gente, questa la faccio in relax perché non ho voglia, però... Io sono pronto. Io sono pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scorboard a sinistra. Tab. No, vabbè, io lo metto. No, ma io tengo tutto. No, io tengo tutto. o comunque il video quando... O comunque il video quando poi lo esporto su YouTube. O comunque il video quando poi lo esporto su YouTube. O comunque il video quando lo esporto su YouTube. O comunque il video quando lo esporto su YouTube. O comunque... Mi sto riempiendo la playlist di Oso soltanto con questa musica. No, a me è partito tutto. È partito tutto. Che bello. Oddio. Sto aspettando. Sto aspettando. Sto aspettando. Ok, si comincia. No. No, ho il relax. No, dai. Ho scordato di togliere il relax. Vabbè. Non. No. Me. E. Vabbè. Vabbè. P darò Non. Ma. Ma. Prendò Grazie a tutti. 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 L'ho mandato un chat sul disco. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Ok, sono un relax. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, no. no come la no il video è l'ax anitam no com'è non ci sono le coppie di elac come numero zero numero zero è troppo forte numero zero è troppo forte tu 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, finalmente una A. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 4.72. E va beh, 4.72, certo. 4.72. 4.72. 5.72. 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 6.72. 6.72. 6.72. 6.72. 6.72. 6.72. 6.72. 6.72. 6.72. 7.71. 7.72. 8.71. 8.72. Che significa che ha fanno questo? Kill my side Kill my side Sobri depresso Che sembra la boxe C'è un problema che c'è gente che mi batta Stai vedendo Sottile è il nome della stanza Tipo... Cambialo Lobby live Stanza Sono stasso questo gioco C'è la barba di pezzi La barba di pezzi Non vale Se il giudianto li prende e fa l'HDR I giorni non la posso mancare la tua mente Stamata E dominate chi è il primo a morire? E dominate chi è il primo a morire? Non lo fordoro Non lo fordoro Non lo fordoro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, la Determinazione. Ma perché 5 stelle? Grazie a tutti. 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 il massacro. hanno... tutti. 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 , tutti. ... vediamo... . 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 No ho failato. . 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 ка. . Magnificent. Eh eh eh. This has more power than Moscow Electric Company. Stay away from my w incense. Does anyone else hear that, or is it just me? Either I'm drunk, or that box is flying around. From Russia, with great affection. Welcome! Come baby, we're doing 59! Stay away from my wonder! Hey, hey! Welcome! Magnificent! Ah, this is a classic! I've got more for you! Why are you not sharing, you fucking capitalist? Stay away from my wonder! No more drinks for you! Welcome! Beh è chi poteva vincere ovviamente Vodka Stay away from my vodka Io stacco, notte a tutti Buona notte Notte Alla prossima live già a tutti stacco già a live